ciao a tutti ragazzi è uscito il secondo giro dell'aggiornamento 3.8 di genshin impact e con questo aggiornamento col secondo giro cos'è che abbiamo vi ricordate e ti ricordi che l'altro va dai vagabondo non si vede ancora qui però ragazzi come sempre mi raccomando e andiamo a sbustare lanciare appunto per chi zelda per cocomi per cocomi esatto quindi non interessa potenziarlo cocomi non ce l'abbiamo è una di acqua che praticamente abbiamo pochissimo si vabbè però ricordiamo che ne avevo già fatti 70 nel banner primo e che non abbiamo beccato klee e quindi adesso il 5 stelle è dietro l'angolo come hai detto 70 lanci con klee si non abbiamo trovato klee e quindi io non li ho fatti infatti si che abbiamo fatti insieme abbiamo beccato anche razzo non ti ricordi quindi allora ricordiamo che non è detto che esca per forza cocomi al 5 stelle speriamo bene speriamo bene potrebbe uscirci però proviamo ragazzi speriamo dai di con gli sviluppatori se mi hanno un'unità dai 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 ma io scusate da sola mamma ale schisto vai triangolo triangolo eccolo qua il 5 stelle eccolo 5 stelle c'è aspetta le c'è e beh sì 73 abbiamo fatti quindi era giusto il conto calma calma calmo calmi È pure carico avevo visto la forma è uguale aspetta aspetta non schiacciare ci siamo fermi sai cosa facciamo la fotografia ragazzi guardiamola 3 2 1 a posto perché fa ridere ok basta abbiamo finito è inutile che facciamo altri lanci potenziamo quindi abbiamo fatto il calcolo giusto incredibile ragazzi voglio farla vedere ma certo ci mancherebbe lo trovate ma com'è beh è sotto l'albero dai facci vedere la configurazione gruppo ecco la qua schiera da sola perfetto facciamo attacco normale com'è spara le bolle pensa che comodità lei non usa il fucile d'acqua fucile d'acqua tipo quelle che abbiamo chiesto poi fai la mossa caricata poi r2 lo carica poi la super non possiamo farla vedere vabbè combattiamo ci mettiamo 6 ore amore dai fai vedere come r2 arriva questa è quella che cura si che ti cura però ovviamente andiamo a vedere le caratteristiche di cocomi però vai bravissima andiamo a vedere lo so che lo sai però quale è talenti talenti allora abbiamo l'attacco normale che è quello che abbiamo visto che spara le bolle poi abbiamo poi abbiamo aspetta ma c'è una roba che nuota andiamo a mare a vedere dopo vediamo giuramento di cura di kurage tramite l'acqua crea un bake kurage in grado di guarire quindi e poi c'è ciao fammi leggere l'ascensione della neregge infligge danni da idro agli avversari circostanti per poi vestire cocomi di abito cerimoniale fatto dei corsi abito cerimoniale i danni di attacco normale caricato e vai a kurage di salonea cocomi aumentano in base ai sui punti i punti vita massimi quindi lei scala sui punti vita e come deglia praticamente ma possiamo provare ad andare a nuotare eh? con lei? eh si vai a nuotare poi chiudiamo il video ok quindi perchè vuoi nuotare? perchè c'è un' abilità di nuotare vabbè sei lì ma sei già lì? io no mi voglio non muotare da un punta oh no però c'è un elemento casuale si no chi se ne freddo no no dai vai vai a fare la nuotata che poi chiudiamo il video e poi siamo a posto e poi fai il video e poi si poi la tiro su perchè anche ho fatto veramente un sacco di volte il boss per tirarla su quindi ci metterla pochissimo eh si lui li fa anche prima legge su google si vado a cercare i materiali si lui li legge su google per sapere i materiali che servono per un personaggio eh non è un segreto vado? vai tu fatti uno aspetta devo ricaricare è perchè c'è un' abilità uno due si muore si muore si muore ok ora cosa faccio? ah ma che bella questa animazione si fa così bella bella perchè c'era una roba che nuotava quando muore perfetto ecco come l'abbiamo trovata subito e abbiamo fatto benissimi conti praticamente non sappiamo ancora il prossimo banner cosa proporrà quindi vediamo zelda chiudiamo il video? si si torniamo in regia allora dai ragazzi fatemi sapere fateci sapere se avete lanciato anche voi su genshin per kokomi o per vagabondo e nei commenti diteci chi avete trovato e se avete trovato quello che volevate che dire come al solito zelda come chiudiamo il video con? un po' da un canale youtube poi un mi piace mi piace al video e ci vediamo al prossimo video filmato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti